E' più cercanto, io voglio... L'opera di Gaetano Donizetti si appresta a tornare al pubblico fanise. Ieri sera il CAS ha incontrato i 59 studenti dell'Istituto Comprensivo Padalino che li hanno aiutati a mettere in scena il flash mob lirico organizzato nel giorno di San Valentino all'ipermercato Ocean di Fano. La compagnia di giovani professionisti ha così concluso i preparativi in teatro per completare i due atti del capolavoro del Mezzo Sorriso. A documentare l'evolversi delle prove invece sono stati gli studenti del Polo Scolastico 3 impegnati nel progetto Dorothy che per il secondo anno consecutivo vede coinvolti gli studenti fanesi. Gli allievi hanno fotografato le attività extra spettacolo come gli incontri degli artisti con il pubblico, il backstage degli allestimenti dell'opera e altre iniziative. Oltre alla documentazione fotografica infatti sono stati attivati stage per due studenti, uno nel reparto Sartoria e l'altro in ufficio produzione. Referente dell'iniziativa anche quest'anno è il professor Paolo Tossi che coordina il gruppo di allievi partecipanti al progetto. Quest'anno i ragazzi sono coinvolti 16 ragazzi, sono ragazzi che si occupano principalmente di documentare appunto fotograficamente ma poi hanno collaborato anche all'interno della Sartoria, all'interno dell'ufficio stampa e una collaborazione diciamo a 360 gradi. Quindi un'educazione particolare, diversa proprio sul campo? Sì, un'educazione diversa ma fondamentale secondo me perché in realtà lo scopo non è produrre un'immagine come vedete o produrre comunque un qualcosa che sia appunto relativo alla loro esperienza ma è fare esperienza. Quindi la cosa più importante è far crescere i ragazzi e abituarsi a capire che la cultura è comunque fondamentale per la crescita degli alunni. I migliori scatti che hanno catturato i momenti più salienti dell'allestimento e delle prove dell'opera sono in mostra nel foyer del Teatro della Fortuna.